Ciao sognatori e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Elle e oggi in questo nuovo video ASMR in italiano andrò a farvi rilassare con il suono della plastica. Vi piace il suono della plastica? A me si tantissimo e ultimamente non so se ci avete fatto caso. Sto facendo dei video dedicati a fare i trigger. C'è stato il video sullo scratching, poi sull'earcapping ed oggi al crinkle sound. Ebbene, indossate le cuffie o gli auricolari per ascoltare meglio. Ho qui per voi vari tipi di plastiche. Ho questo. Che è un tipo di plastica molto sottile, come potete vedere. Perciò oggi ho cambiato lo smalto. Guardate che bello. È linda. Cioè bellissimo. Ok, volevo condividere questa cosa. Poi ho questo qui che è il mio preferito. Questo è più spesso dell'altro. ed è, se la memoria non mi tradisce, la carta dei cioccolatini. No, dei biscotti. E' da un suono stupendo secondo me. E infine, a questo. Questa è in realtà la custodia di questo qui, del filtro. E dunque, inizio col posizionare questa plastica sopra il microfono. E vediamo come si ascolta che suono ha. Certo, quella della carta dei cioccolatini. No ci Although the mic ha Didi volevo vedere questa plastica. Il altro giro, chdev' sweetie, che ben inferiore. ah per giunta senza farlo apposta questa plastica sopra attutisce i rumori esterni e meglio così perché fuori c'è molto vento molto molto vento e così questo lo attutisce iscriviti al canale Ah, ciò che ci sono. Allora, ditemi se avete un trigger in particolare che amate, così posso farci un video dedicato come ho fatto per lo scratching e il ear cupping e in questo momento per il crinkle sound. Allora, ciò che ci sono. 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 Date sempre il meglio di voi in qualunque cosa. Questo è il terzo video di fila che registro. Ciao. Ciao. Cioè, a me piacciono tantissimo questi suoni perché sono dei suoni abbastanza forti. Io adoro i suoni forti. Spero anche voi. Se non amati i suoni forti, allora vi consiglio di abbassare un pochettino il volume. Ciao. 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 Adoro troppo Io ho i miei soliti esperimenti Perchogood Ah, i miei soliti Sì. bellissimo voi non potete capire quanto adoro questo pezzo di plastica perché per me dà un suono, cioè, ma io non lo so, troppo bene non lo so, troppo bene questo video è super 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 encrenco non lo so, troppo bene 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 mamma mia, troppo bene come voi, troppo bene non lo so, 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 troppo bene